A 17 anni ha iniziato a lavorare come fotomodella, per intraprendere la carriera di attrice subito dopo. Dal 2000 al 2003 ha studiato recitazione. Prima a Tolosa presso l'Università d'Arte Drammatica, l'Emirail. Poi con Beatrice Bracco presso il Teatro Blu di Roma. Si è laureata in Marketing e Comunicazione alla Sapienza di Roma, protagonista di diversi spot, pubblicitari. Dopo aver girato alcuni cortometraggi, è apparsa nel 2003 sul grande schermo con il film Alla fine della notte, regia di Salvatore Piscicelli, nel 2004 con il film Balletto di guerra, diretto da Mario Rellini e nel 2007 con E guardo il mondo da un oblò, diretto da Stefano Calvagna, dove interpreta Valentina, tra i suoi lavori televisivi. In Cantesimo, in cui dal 2004 al 2006 interpreta il ruolo di Nicoletta Capirossi. Una vita in regalo, miniserie tv diretta da Tiziana Aristarco. Con Luca Barbareschi, nel 2005 e l'ultimo rigore 2. Miniserie tv diretta da Sergio Martino. Nel ruolo di Jenny Corsi con Enzo De Caro. E la sopopera di Canale 5. Vivere, dove dal settembre del 2007 al 2008 è la cattiva e determinata Barbara Ponti. Nel 2006 ha condotto al fianco di Marco Mazzocchi il programma sportivo Notti Mondiali su Rai 1. Vivere da campione con Corrado Tedeschi. Sempre su Rai 1 ed Eurogol con Stefano Bizzotto su Rai 2. Ha partecipato alla quinta edizione del reality show di Rai 1. Ballando con le stelle, condotta da Mili Carlucci, in coppia con il ballerino professionista Dimitri Dima Pakomov. Nel 2011 è stata attrice protagonista, nonché produttrice, del film per il cinema Goodbye Mama nel ruolo di Virginia Akhirova. Dal 2012 è una delle protagoniste della fiction di Canale 5 Le Tre Rose di Eva nel ruolo di Elena Monforte, per la reggia di Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi.